E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Buon 8 dicembre a tutti, buon weekend lungo, inizio di weekend lungo. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, abbiate intenzione di fare, quale modo migliore c'è che finire la prima giornata così, con un bel aggiornamento sul mercato cripto e sulle cose che succedono. Ovviamente potete tranquillamente recuperarlo nei prossimi giorni. E' qui che non scappa. Ebbene oggi niente live, ma il flash update, lo sapete, non ce lo toglie nessuno. Anche perché ci sono, lo so che è una cosa che ormai sembra quasi una formula, una cosa scontata, ma ci sono tantissime novità importanti che vale la pena attenzionare di cui parlare. Innanzitutto lato price action, oggi è venerdì e stiamo per chiudere, ragazzi, l'ottava candela settimanale, verde a fila su bitcoin. E non succedeva da un bel po' e indovinate che cos'è successo le ultime volte che si è visto un pattern del genere? Cose molto interessanti e le andiamo a vedere tra poco così, giusto a titolo informativo. Intanto, prima di andare a vedere le altre cose, ci sono un sacco di airdrop in arrivo che veramente gli stimoli monetari durante il covid in confronto non sono nulla e Solana è la chain che sta dominando in questi termini. Una predizione assolutamente folle di VanEck che paragona bitcoin al giorno d'oggi all'oro prima del 2004, ovvero prima dell'approvazione delle TF e anche lì, non so se sapete cos'è successo dopo, insomma, tutta una serie di notizie, analisi, contesti e situazioni con un retrogusto bullish non da poco che rende veramente difficile, anche se è importante farlo sempre, mantenere la lucidità, non farsi prendere dalla FOMO. Detto questo, se avete della FOMO scatenatela lasciando un bel like, perché se lasciate un bel like a questo video con tanto di rincorsa, sapete ormai come funziona, ecco, la FOMO se ne va, la mettete tutta qui e me la trasmettete anche a me, mi gasate veramente un sacco e al di là di tutto è un bellissimo modo per aiutare il mio canale, perché spingete l'algoritmo di YouTube e altro modo per farlo e per rimanere sempre al 100% sul pezzo, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, ogni giorno trovate contenuti di approfondimento, ricerca, studio, analisi, notizie, insomma, tutto quello che succede voi lo sapete, senza ombra di dubbio, senza se e senza ma. Fatta questa piccola introduzione, cominciamo subito con la price action. Allora, da un punto di vista proprio grafico, non abbiamo tante novità rispetto a mercoledì, all'ultima volta che ci siamo visti per fare analisi di questo tipo, allora io tengo adesso sempre sotto mano in primis il grafico settimanale, perché è lì che si giocano, vedete, le partite con le resistenze principali. Tanto vi anticipo già che anche sul giornaliero non è che ci stiamo lasciando dei livelli chiave intorno, no? E quindi è veramente una sorta di price discovery, stiamo cercando di capire, ecco, dove si vuole arrivare e le prossime resistenze importanti sono, ripeto, su time frame settimanale. Abbiamo 42.400, resistenza minore, 46.860, questa qua, resistenza invece maggiore, perché va a, come dire, identificare il punto di origine della leg down più forte del bear market precedente. Pensate che se l'assorbiamo ci siamo assorbiti completamente tutta la grande discesa, la più grande discesa del bear market. Sarebbe veramente una dimostrazione di forza pazzesca da parte di Bitcoin. In un periodo dove i tassi di interesse sono alti, sono al 5%, siamo in quantitative tightening e veramente, insomma, io non so se me l'avessero raccontato prima che accadesse, che in un contesto macroeconomico del genere Bitcoin avrebbe potuto performare in questo modo, non so, ripeto, se ci avrei creduto. È veramente una dimostrazione di forza non da poco. E quindi io vi butto lì anche una domanda. Voi cosa vi aspettate da Bitcoin nei prossimi mesi, insomma, nell'avanzare, no, quando cambierà un po' la situazione macroeconomica, quando se approveranno le TF, che aspettative avete insomma per Bitcoin nei prossimi mesi e come vi state comportando, che strategia state adottando? Fatemelo sapere nei commenti che, come sempre, ci confrontiamo ed è molto costruttivo condividere e leggere le opinioni altrui, ci si fa un'idea più completa. E gratte, ovviamente, se lo volete fare, proprio perché partecipate a questo confronto. Detto questo, l'unico supporto anche importante su questo time frame che ci siamo lasciati sotto, vedete, è proprio questo qua, questa zona di congestione, che in realtà poi è frapposta tra due livelli chiave mensili, però, vedete, è il solito, insomma, il range in cui abbiamo lateralizzato un po' di tempo fa. Torniamo sul daily per avere qualche livello chiave, ecco, più importante. Come vi dicevo, non ci sono grosse novità, anche perché appunto mercoledì eravamo qua... no, scusate, qua. Mercoledì eravamo qua, oggi siamo qua, la price action è esattamente la medesima, se non che abbiamo creato un piccolo high locale che possiamo, volendo, andare a segnare, no, su time frame giornaliero, tac, con una piccola zona di liquidità, nella quale, vi anticipo già, tra l'altro, che si annidano, stiamo parlando dei 44.500, vi si annidano, vedete, un bel po' di liquidazioni, guardate che roba, queste sono di una settimana, se noi andiamo a vedere la zona 44.400, fino a 44.500 c'è praticamente un miliardo di dollari di liquidazioni pronte a saltare, e guarda caso è proprio la zona calda più vicina, vedete, sotto di zone così calde non ce ne sono, c'è la zona con liquidazioni principali più vicina sotto, è sui 42.600, ecco quella zona lì, sotto ovviamente ai nostri minimi locali, perché di fatto 42.600, tac, esatto, guardate, ve lo segno un po' anche qui, tac, qua sotto, perché di fatto quando c'è così, volumi così alti, questo periodo è caratterizzato da uno spike di volumi per ovvi motivi, chiaramente nel momento in cui basta anche un piccolo movimento di consolidamento che ai lati ci si va ad annidare immediatamente liquidità, in particolare di solito si va ad annidare liquidità contro trend, perché tutti cercano di shortare il massimo, dicendo bene qua adesso ritraccia, fare gli short preventivi che sono una cosa parecchio rischiosa, perché poi se continua invece la risalita, anche solo per andare a prendersi quegli short, visto che ci sono appunto molto spesso, in particolare li abbiamo annidati sopra a qua, qui siamo molto vicini ad andarli a prendere, ripeto, e quello genera degli squeeze, solito scenario, uno squeeze qua sopra sarebbe interessante perché potrebbe portarci dritti dritti verso la resistenza successiva e lì sarebbe importante poi andare a vedere come reagiamo, perché se c'è un'area dove l'offerta si può far vedere è sicuramente quella, questa è la resistenza credo più forte che abbiamo davanti a noi in questo periodo. Quindi ricapitolando in breve gli scenari possibili, struttura ovviamente rialzista che ve lo dico a fa, abbiamo massimi e minimi crescenti, abbiamo iperestensioni in atto, attenzione perché qua c'è sempre un contesto di iperestensione, bisogna ricordarlo ogni volta, non per fare il guastafeste ma comunque per tenere alta la guardia del fatto che insomma abbiamo otto candele settimanali verdi a fila, nonché una singola leg up dell'ampiezza del 62%, una sola leg up, un solo impulso, quindi siamo direi in un contesto di iperestensione, il che non vuol dire che dobbiamo andare a ritracciare fino a chissà dove, però ovviamente aumentano i rischi di vedere innanzitutto che basta poco, basta uno strattone, uno scossone per andare a generare volatilità importante sul mercato, proprio perché cubano tante posizioni aperte, ci sono tanti long infomo, tante posizioni appunto che magari nel momento in cui c'è uno scossone dall'altra parte vanno a fare take profit, vengono chiuse, vengono stoppate, insomma quando si estende per ovvi motivi tutto questo accumularsi di posizioni direzionali è a rischio, nel senso tanto più alto l'open interest è tanto più alta l'estensione, è a rischio di generare più volatilità del solito, quindi bisogna maneggiare con cura, questo è un po' il discorso. Guardando gli scenari, ripeto, macroscopicamente parlando, resistenza sui 47.000 primo target, mentre sotto abbiamo la nostra area di supporto qua sui 36.2 fino ai 37.7 che possiamo andare tranquillamente a vedere sul giornaliero, il giornaliero ci dà anche un primo possibile scenario di indebolimento della struttura che sarebbe la perdita dei 37.7 proprio perché avremmo, vedete in caso di movimento di questo tipo, l'assorbimento dell'ultima leg up che parte esattamente da qua, quindi il primo step di indebolimento strutturale per eventualmente propagare, se questa sarà l'intenzione del mercato, un ritracciamento anche in modo un po' più prolungato, mentre tutto ciò che accade in quest'area, vedete qua dentro, comunque non va minimamente a intaccare la struttura. Se vogliamo proprio andare a tirar fuori anche le strutture più piccole, che però è un qualcosa di riferito all'intraday perché due giorni di movimento non fanno certo una struttura, ecco andare a continuare a ritracciare in questo modo abbiamo, ripeto, due giorni di, come si può dire, neanche storno perché questo è un respiro, no? Che hanno formato un micro range, però ripeto è roba da 4 ore questa, no? E non ha senso osservarla sul giornaliero, quindi se andiamo a creare dei lower low da qui, cominciamo a propagare un po' sulle 4 ore e volendo sempre sulle 4 ore abbiamo i 41.500 come origine dell'ultimo impulso, però più scendiamo di time frame più ci andiamo a complicare la vita da soli, cioè io rimarrei sempre a osservare per bene, anche perché poi dipende ovviamente dall'operatività, però osservare il giornaliero è già abbastanza chiaro e cristallino, quindi qua sotto abbiamo situazione di indebolimento, qua sopra abbiamo invece, cioè rimanere in questa zona, possiamo sì fare una lateralizzazione, un consolidamento, tutto quello che vogliamo, ma la struttura non è minimamente alterata, anzi un bel consolidamento di certo non farebbe schifo, sarebbe auspicabile proprio per sanare un attimino l'iperestensione. Il primo segnale ecco di consolidamento, di voler ecco di, come si può definire, di esaurimento se vogliamo di questa spinta che al momento è galoppante a rialzo, potrebbe essere proprio un flash crash per le motivazioni che abbiamo detto prima. Quindi flash crash che magari poi viene assorbito in parte, poi però continua l'offerta a spingere a ribasso, abbiamo l'innesco del ritracciamento, comunque noi come sempre lo seguiremo giorno dopo giorno. E a proposito di seguire giorno dopo giorno, visto che si parla sia di price action bollente che di tanti airdrop come vedremo tra poco, io vi consiglio sempre e comunque di seguirci sul nostro canale telegram, dove tra l'altro abbiamo già spoilerato, non appena si sa una notizia che sia una airdrop analisi, cose importanti da sapere sul nostro telegram la trovate in tempo reale, bam, a una velocità impressionante, siete i primi a saperla e quindi che dire ragazzi è gratuito, vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi, ci vediamo lì e lì siete al 100% sul pezzissimo, anzi al 101% perché è veramente il massimo che si può ottenere in termini di sul pezzaggine, no? Come si suol dire. Prima di andare a vedere il discorso degli airdrop vi volevo solo mostrare, chiusa la parentesi price action, le analisi di Vanek. Guardate, allora Vanek ha fatto intanto 15 predizioni per il 2024 che magari tratteremo in un video dedicato, potrebbero essere interessanti, che non sono limitate a Bitcoin, ad esempio predice che Solana sovraperformerà Ethereum, vediamo, ne parleremo, potrebbe essere molto molto interessante e il primo punto ovviamente riguarda il fatto che la recessione arriverà negli Stati Uniti e insieme arriverà, cioè insieme, a breve arriverà l'ETF Bitcoin e l'ETF Bitcoin inizierà ad assorbire capitale. Inizierà ad assorbire capitale in modo simile a quanto ha fatto l'oro, vedete anche qua, questo è sempre un analista che lavora con Vanek, in modo simile a quanto ha fatto l'oro dal 2004 in poi, vedete? Questo è un grafico che mostra l'andamento del prezzo spot dell'oro prima del 2004 e dopo il 2004 con l'introduzione del SPDR Gold ETF, che era appunto il primo ETF sull'oro di dimensione e capitalizzazione degna di nota. E poi appunto qui fa vedere che negli otto anni successivi il prezzo dell'oro è quadruplicato e sono entrati 8 trilioni nella market cap, da 2 trilioni a 10 trilioni. Ovviamente aveva già una dimensione non indifferente e qua fa vedere un po' di calcoli, dice che attualmente Bitcoin ha meno di un terzo della capitalizzazione dell'oro nel 2024 e quello che secondo lui guiderà, questa crescita del mercato di Bitcoin, al di là dell'ETF diretto, sono gli effetti di secondo ordine. Quindi in particolare il discorso che gli stati e le banche centrali potranno avere, come dire, esposizione nei confronti di Bitcoin, proprio grazie a questo strumento finanziario, però dice magari non lo vorranno neanche fare così. Nel senso, questo è uno sdoganamento, l'avere l'ETF di Bitcoin ufficialmente, sdogana Bitcoin come asset di un certo tipo, apre le porte quindi a una serie di interessi anche istituzionali, però come vedete qua la predizione dice che gli stati in azione e i fondi oppure anche alcune banche centrali potrebbero voler detenere direttamente Bitcoin Spot con le loro soluzioni di custodia. E un po' simile appunto, sempre in parallelo con l'oro. E quindi che dire, questa è un po' l'idea che loro hanno, quindi che siamo in una situazione simile a quella dell'oro pre-primo ETF. Cosa ne pensate? Io vi chiedo, secondo voi può avere effettivamente un andamento Bitcoin post ETF simile a quello che ha avuto l'oro? Ditemi la vostra, vediamo cosa vi aspettate, esatto, sempre dopo l'approvazione, in termini anche di crescita, anno dopo anno, insomma, guardando avanti, guardando il futuro. Non la vedo come una cosa improbabile, anche perché basta che una piccola parte dei grossi fondi voglia avere un'esposizione su Bitcoin e tramite l'ETF c'è la possibilità di farlo senza sbattimenti, che comunque si parla di miliardi di dollari che entreranno. E tra l'altro, io me lo chiedo proprio con sincerità, cioè un qualsiasi investitore al giorno d'oggi, secondo me, perché non dovrebbe esporsi un 5% a Bitcoin? Cioè non c'è ragione di non farlo, un asset diversificato rispetto al resto comunque ha dato già tanta prova di resilienza, quindi il discorso del può andare a zero è un discorso a mio parere ormai superato, i rendimenti potenziali superano tantissimo i rischi, è un asset che ha un profilo di rischio rendimento unico, e non dico di andare all in ovviamente, ma un 5% del portafoglio, cioè datemi una ragione se riuscite, se vi viene in mente, per cui un investitore non dovrebbe allocare il 5% del suo portafoglio in Bitcoin. Insomma, ditemelo un po', e così sono curioso. Detto questo, c'è anche ovviamente di nuovo Fidelity che torna ad analizzare un po' come aveva fatto in passato, no? Il ruolo proprio di Bitcoin in un potenziale portafoglio, di fatto riporta esattamente i dati che avevamo visto in un'analisi di qualche tempo fa, e fa vedere che appunto Bitcoin, cioè ha un perfetto ruolo in un portafoglio, è completamente sensato come asset class nella quale diversificare i propri investimenti. Non ve lo sto a ripetere perché è veramente uguale a quello che avevamo detto l'ultima volta, però è molto molto interessante. Ora veniamo a capitolo airdrop e poi andiamo ad analizzare in breve il mercato altcoin. Allora, airdrop dopo quello di Gito, che tra l'altro per chi l'ha preso, purtroppo non io, Gito comunque è stato listato a un paio di dollari, mi pare uno e qualcosa, erano miglia, ma tipo 5-6 mila dollari, bastava mettere in staking qualcosa come 100 dollari di Solana su Gito per una settimana e avevi diritto a 6 mila dollari di airdrop. Completamente folle come cosa. A sto giro, ahimè, me la sono persa e non so voi se siete riusciti a recuperarlo, purtroppo è andato a pochi, ma la buona notizia è che non è l'ultimo airdrop su Solana. Ormai Solana, ne abbiamo parlato tante volte nelle ultime settimane, sta vivendo di stimoli, ha tanti stimoli che impattano in primis sulla price action di Solana, sul TVL che su Solana c'è, insomma è la Solana Season questa un po' da sto punto di vista. È sicuramente uno degli ecosistemi più floridi anche grazie a questi stimoli, non solo, perché lo seguiamo, lo abbiamo seguito parecchie volte, abbiamo visto che lo sviluppo c'è sempre stato e quant'altro, però ecco questo sicuramente fa tanto, sono stimoli finanziari, diretti, porca miseria, che poi rimangono gira e rigira nell'ecosistema, soprattutto quando ci sono anche promesse possibilità di futuri airdrop. Uno di essi è Camino Finance, che sì, i nomi non so come caspita li scelgono, ma qui è affermato, vedete, Camino Points are coming, che lancerà appunto un point program che prepara il terreno per un futuro airdrop di token, che cosa caspita è Camino, un money market. Quindi, ve lo faccio vedere subito, è tipo Aave, no? Non so se avete presente, landing e borrowing banalmente, dove è possibile, c'è addirittura il disclaimer MIFI 2, roba mai vista nella storia umana, e adesso non so perché, non... aspetta, facciamo che disattivo... eh no, è arrivato comunque, il nostro pc fa parecchia fatica ultimamente, è ora di andare in pensione, mi sa, in pensione anticipata. Comunque, liquidity, vabbè, non gito sol, che sinceramente non mettiamo il dito nella piaga, e vedete, è un'Aave, no? Quindi con possibilità di mettere liquidità in prestito, a borroware con un APY che dipende poi da domande offerta. Solito money market, no? È come Aave. Con la possibilità però, vedete, di andare a fare anche margin trading con la liquidità che poi gestisce internamente. E di fatto, vedete, points è comparso qua in alto, che non c'è ancora nessuna regola né niente. Ci sono alcune cose che sono però state dette, quindi andiamole a leggere. Allora, innanzitutto qua dice che i vecchi utenti, quindi non so se qualcuno di voi aveva già usato camino, va bene, è bella per voi, perché verrete comunque ricompensati, e inoltre anche adesso ci sarà la... cioè da adesso in poi, insomma, utilizzandola si guadagneranno punti, e quindi in futuro si otterrà le airdrop. Qua è proprio... cioè l'hanno detto, ragazzi, usate il mio fottutissimo protocollo, vi do le airdrop. Cioè, proprio siamo arrivati a questi livelli ormai. Poi, Layer Zero, anche loro, Layer Zero è grosso, eh? Questo sarà molto, molto, molto grosso. Layer Zero ha affermato oggi sul loro... dal loro Twitter ufficiale che ci sarà un Layer Zero token, ok? E la distribuzione avverrà nella prima metà del 2024. Questo sarà immenso come airdrop. Veramente stiamo andando in una direzione di quantitative easing, di cripto, veramente incredibile. E poi, come se non bastasse, se vi dovesse interessare un po' a seguire, in particolare, l'ecosistema Solana, guardate, DeFi Lama ha creato una pagina che vi ho condiviso appunto sul canale Telegram. Se volete rimanere sul pezzissimo con gli airdrop, seguiteci su Telegram, lì non ve ne perdete uno. Notizie dell'ultimo minuto, bam, le trovate lì sugli airdrop. E come vedete, tokenless protocols that may airdrop. Ok? Qua hanno banalmente filtrato tutti i protocolli di Solana che non hanno token, con tanto interessante, vedete, di total money raised dai venture capital, perché di solito, quando ci sono dei cippini dei venture capital, i venture capital c'hanno voglia di fare il token per andare ad arraffare il più possibile, no? Perché chiaramente vai a creare liquidità, vai a creare incentivi e loro sono i primi a riceverli per ovvi motivi. E quindi, se vi interessa, potete anche ordinarli per TVL. E ovviamente alcuni sono già andati e basta. E qua vi fa vedere come è cambiato il TVL. Ragazzi, il TVL è su Solana, andiamolo a vedere per curiosità, ma sta veramente vivendo di stimoli in questo periodo. Va che roba! Guarda che incremento! Adesso togliamo pure, ecco, la fase del bull market, ma c'è veramente impressionante. Guardate i cambi di TVL nei principali protocolli, cioè Solana sta veramente avendo il suo rinascimento grazie a queste stagioni di airdrop. Sono curioso di vedere come andrà avanti la cosa, la seguiremo. Vale la pena seguirla, ma è da un po' che lo diciamo, non è la novità di oggi, no? Di seguire in questo periodo l'ecosistema Solana, perché ora, ora come ora, in questo periodo storico è sicuramente uno di quelli più sotto i riflettori. A proposito di vedere un po' come vanno, price action, guardiamo un po' la price action. Allora, Sol è in fase di lateralizzazione, guardate che sweep dei minimi che ha fatto, che bel giochetto qua. È ritornato, siamo in range al momento, e dopo questa breve lateralizzazione, intorno all'origine dell'ultima leg down, che se superata propaga nuovamente verso un'inversione di trend, no? Per il momento abbiamo avuto questo costrutto di bottom, che era stato rotto da un po', l'abbiamo iniziato a seguire, no? Vi ricordate? Il primo costrutto di bottom, la prima inversione di struttura dopo il bear market veramente estenuante che ha avuto, e adesso potrebbe esserci una seconda propagazione, e come dire, la FOMO poi diventa sempre più palpabile, più si propaga. FOMO, ovviamente non è un termine con un'accezione meramente positiva, perché porta ovviamente FOMO, ma porta poi i rischi legati all'iperestensione. Quindi attenzione, poi più si propaga, più maneggiare con cura. Soliti discorsi. Per il resto abbiamo anche un inizio di movimento, forse un pelino interessante, su Ethereum e sulla dominance in generale. Questa candela settimanale potrebbe essere interessante, c'è uno sweep dei minimi assorbito molto bene, vediamo, perché chiaramente la struttura, lo sapete bene, è ancora molto debole. Bisogna andare a prendere qua, innanzitutto e qua, per andarla a invertire, o comunque fare un higher low, cosa che per il momento non si vede, quindi non anticipiamo i movimenti, cosa che è assolutamente poco auspicabile. Da un punto di vista della Bitcoin dominance, guardate, abbiamo un trend sempre molto forte, però vedete che abbiamo un piccolo segno di debolezza anche qua. Allora, di solito, il discorso è il solito, cioè la rotazione dei capitali avviene quando Bitcoin conferma una struttura e la propaga sufficientemente e poi la dominance inizia a invertire. Adesso la struttura di Bitcoin, come vedete, si sta rafforzando sempre di più e nel momento in cui diventa ancora più ovvio, si va a propagare la struttura in questo modo e inizia a lateralizzare un po', poi c'è da tenere ancora più d'occhio la Bitcoin dominance, che al momento, attenzione, non ha ancora invertito il trend, perché la alt season famigerata avviene solo e soltanto lì. C'è una cosa che vi avevo promesso e non vi ho ancora fatto vedere cos'è successo l'ultima volta che ci sono state sette, otto candele verdi a fila. In realtà otto non le ho trovate negli ultimi anni, non sono andato troppo indietro perché poi perde di senso. Ne ho trovate sette e queste sono le ultime tre volte che ci sono state sette candele verdi a fila. In particolare abbiamo questa volta qua, che è stato prima di rompere gli old time high, sono state le candele che l'hanno portata esattamente ai vecchi old time high che poi sono stati rotti. Qua c'è stato sette candele a fila quando ha recuperato dal Covid crash e poi sette candele a fila dopo il bottom, prima del ritracciamento che ha portato al Covid crash e poi la partenza. Così, ve la butto lì. È inutile dire ci troviamo qui, 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 perché sette candele cioè non bastano da sole a definire una casistica storica così importante ma era così giusto per darvi un po' di contesto, un po' di incuriosimento. Ragazzi, detto questo, io spero che così vi sia interessato e piaciuto questo flash update, questo ricapino veloce. Io vi auguro di cuore un buon di nuovo weekend lungo, oggi compreso. Noi ci rivediamo lunedì come sempre sul pezzissimo in live, nel frattempo godetevi queste giornate e passate un buon fine settimana. Buona serata a tutti e alla prossima!